Eccoci, buonasera. Il telegiornale tra pochi secondi comincia con evidentemente la crisi politica. Oggi i fatti nuovi, lo sapete, l'avete già sicuramente saputo, sono Conte che va al Quirinale, dice a Mattarella vado avanti e contemporaneamente è il Partito Democratico a fare pienamente sua la prospettiva di reclutare dei responsabili, dei costruttori che faranno parte della maggioranza nell'ipotesi evidentemente che questa operazione vada in porto al posto dei Renziani, dei deputati e senatori di Italia Viva che, come si sa, hanno tolto di fatto la fiducia al governo con le dimissioni delle due ministre, una delle quali, la Bellanova, viene sostituita ad interim proprio dallo stesso Conte. È partita quindi l'operazione, ma quando andrà in porto? Deve andare in porto entro lunedì, al massimo lunedì notte, quando si voterà dopo le comunicazioni di Conte alle due Camere che avverranno nella stessa giornata di lunedì. Prima la Camera e poi al Senato. La pressione era per andare al voto al Senato martedì, ma per non dare un giorno di più l'opposizione ha chiesto che avvenissero tutte e due contemporaneamente lunedì. Non è ancora del tutto chiarito perché non è ancora conclusa la riunione dei capigruppo al Senato, ma l'ipotesi che proprio sia nella tarda serata, nella notte di lunedì, il voto decisivo a Palazzo Madama. Ma tutto questo non è che una parte dei fatti della giornata, anche se parte ovviamente cospicua. Ci sono notizie importanti ancora dal fronte della lotta contro la pandemia, dal fronte della scuola, anche dal fronte dell'indagine sulla pandemia della Procura di Bergamo e anche su quella altra partita drammatica, quella negli Stati Uniti. Trump è il finale di partita a ormai sei giorni dall'insediamento di Biden. Questo è altro, 30 secondi e poi partiamo col Tg. E allora eccoci, un'altra serata importante, un'altra giornata importante che abbiamo vissuto anche con la nostra non-stop. Ma si è capito che il giorno decisivo sarà lunedì o martedì, quando si voterà al Senato sulla fiducia dopo le comunicazioni di Conte. Lì si vedrà se i Renziani sono stati sostituiti da una pattuglia di costruttori responsabili, o chiamateli come volete, il centrodestra li chiamerà transfughi, sicuramente che andranno appunto a comporre la maggioranza, a fare da ruota di scorta della maggioranza, permettendo al governo di andare avanti. Che è quello che da ieri dice Conte, è quello che si sono andati allineando nel ripetere gli esponenti della maggioranza, è lo stesso Partito Democratico. Prima di vedere il film della giornata, solo in un flash, chiedo a Alessandra Sardoni se c'è la decisione definitiva della conferenza dei campigruppo del Senato. No, ancora no, perché è ancora in corso la riunione, quindi adesso circolava addirittura la battuta, forse i responsabili li cercano anche nella Capigruppo, naturalmente uno scherzo e un paradosso, ma per dire che si sta effettivamente protraendo molto a lungo, ma è una battaglia campale e quindi è chiaro che ci siano questi tempi e queste incertezze. Attendiamo allora, vediamo con Laura Apergo cosa è successo in questa giornata. Nella crisi politica aperta ieri da Matteo Renzi, il pallino è passato al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ora tocca a lui muovere, aveva detto il leader d'Italia Viva, annunciando le dimissioni delle sue ministre, Bonetti e Bellanova. Un addio che il Consiglio dei Ministri ha registrato ieri sera come atto di grave irresponsabilità. PD, 5 Stelle, Eleo, tutti concordi. Tanto da riempire i social con l'hashtag Avanti con Conte, rilanciato dai grillini come dai PD, Orlando, Franceschini, Zingaretti. Stamattina Italia Viva dice con Bonetti e Rosato di essere pronta a tornare al tavolo. Le dimissioni sono proprio lo spazio perché il tavolo si apra. Intanto il Parlamento, su richiesta delle opposizioni, ma concorde la maggioranza, sospende i lavori in attesa degli sviluppi. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, dice che parlerà con Conte, comunicandogli la richiesta dei gruppi di riferire in aula. Lo stesso al Senato sono convocate le capigruppo. Il 20 è già fissata la seduta per votare il nuovo scostamento di bilancio, che stasera sarà deliberato dal Consiglio dei Ministri. Ma la richiesta dei gruppi è che Conte vada prima in aula. In furia la guerra dei comunicati. I 5 Stelle si ricompattono tutti contro Renzi. Conte al suo posto, Renzi fuori per sempre, tuono Alessandro Di Battista. Se si fa un altro governo con Renzi, non voterò la fiducia, dice la senatrice Barbara Lezzi. Beppe Grillo, posta la foto di un suo abbraccio con il Premier e la scritta, Conte. E poi Luigi Di Maio. Renzi, il responsabile, le nostre strade sono divise definitivamente. Conte, Mattarella ed Europa, i punti fermi in questa incertezza. Segue appello a quelli che il Ministro degli Esteri chiama costruttori europei, maggioranza Ursula, insomma centristi vari e Forza Italia. La caccia ai responsabili per una nuova maggioranza è ufficialmente in corso. Più dubbi si registrano nel Partito Democratico, che a ora di pranzo si riunisce al Nazareno. C'è la linea della rottura finale con Renzi. Mina la stabilità, dice Nicola Zingaretti. In qualsiasi scenario si possa immaginare di coinvolgimento e di nuova possibile ripartenza. Inaffidabile lo bolla il segretario Dem. Fu ribondo dopo il fallimento di tutti i suoi tentativi di mediazione. È difficile, diciamo, pensare di ricostruire esattamente il basso, un po' per il crinale. Cercano di tirare il freno delle polemiche e rieprire qualche spiraglio di dialogo con l'ex segretario. I capigruppo del Rio e Marcucci. Renzi inaffidabile, chiedete a Zingaretti. Per noi è prioritario formare un governo che governi. Butta acqua sul fuoco il presidente dei senatori Dem. Comune è la preoccupazione di un rotolare verso il voto anticipato. I responsabili non ci sono, sostiene il PD, ma la ricerca continua anche come strumento di pressione su Renzi. Renzi vuol far saltare ogni asse PD 5 Stelle e l'EU, fanno eco da liberi e uguali. Alle tre del pomeriggio è il capodelegazione PD al governo, Dario Franceschini, a dettare la linea del momento. Le maggioranze in un sistema non più bipolare si cercano e costruiscono in Parlamento. Non c'è niente di male nel dialogare apertamente alla luce del sole, con forze politiche disponibili a sostenere un governo europeista, in grado di gestire l'emergenza sanitaria e il recovery e fare una legge elettorale proporzionale. Insomma, via libera all'operazione responsabili. Noi ascoltiamo il richiamo del presidente Mattarella, noi siamo costruttori, si fanno già avanti. I socialisti di Enzo Maraio e del senatore Riccardo Nencini, che con il prestito del simbolo ha consentito Italia Viva di fare il gruppo in Senato. Mezz'ora dopo, alle 16, Giuseppe Conte sale in Quirinale a comunicare a Mattarella di voler andare in Parlamento per una nuova fiducia. L'appuntamento per la conta decisiva è lunedì alla Camera e poi al Senato. E a quanto pare sarà lunedì mattina o nella tarda mattinata alla Camera e l'ultima ipotesi che si affaccia è alle 18, le comunicazioni di... non comunicazioni, l'intervento di Conte al Senato su cui poi ci sarà di fatto il voto di fiducia, che potrebbe avvenire nella notte, così no Alessandra, che potrebbe succedere. Le voci parlano appunto della fissazione per le 18, le 6 del pomeriggio di lunedì, anche se forse non c'è ancora l'ufficialità. Eh sì, le voci sono queste, però appunto attendiamo ancora e dobbiamo sapere, insomma a un certo punto usciranno e ci sarà un comunicato con questo orario. Però se è così, se saranno confermate queste voci, appunto il dato rilevante è che sarà tutto nella stessa giornata, non ci sarà la notte in più, diciamo, per le trattative che potrebbe, come dire, essere favorita dal fatto che naturalmente alla Camera Conte ha i voti. Allora, ci ressentiremo Conte dopo, prima di andare da Paolo Celata, però vediamo chi sono gli altri protagonisti, quelli che devono fatalmente nel gioco delle parti giocare a evitare che questi costruttori responsabili o transfughi passino appunto nelle file delle maggioranze dalle loro file, cioè quelle del centrodestra. Ho appena parlato con il Presidente Mattarella, gli ho chiesto non solo a nome del centrodestra unito, ma di 60 milioni di italiani che non stanno capendo che cosa succede di fare in fretta. Se c'è un governo vorremmo saperlo e quindi il Presidente Conte non può star lì altri giorni senza spiegare all'Italia che cosa sta succedendo, o va a dimettersi al Quirinale o viene in Parlamento e ci racconta se ha trovato per strada qualche senatore di posto a rinnovargli la seduta. Fare in fretta. Alla fine del vertice Matteo Salvini ripete la parola d'ordine del centrodestra. Stringere i tempi, non concedere alla maggioranza spazio utile per condurre in porto l'operazione responsabili e serrare i ranghi. Alla riunione, la seconda in due giorni, il centrodestra è in versione stesa, non ci sono solo i leader del carroccio, quella dei fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il Vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani, ma anche Maurizio Lupi, noi con l'Italia, Giovanni Totti, cambiamo, Lorenzo Cesa, Udc. E agli ultimi tre che Salvini ha chiesto rassicurazioni perché soprattutto ad arcipelago delle piccole sigle centriste che guarda chi lavora per reclutare i responsabili o costruttori per sostituire i renziani in uscita dalla maggioranza. Il centrodestra è compatto, garantisce Salvini. Se anche Conte dovesse avere i numeri, la prossima settimana andremmo verso un governo ancora più debole, ancora più incapace di dare risposte agli italiani, ancora più incapace di affrontare una crisi come quella che noi abbiamo di fronte e quindi per il centrodestra e per Fratelli d'Italia l'unica soluzione seria, seria, responsabile in una fase come questa è andare al voto. La leader di Fratelli d'Italia chiude a ipotesi di governi istituzionali, opzione che per Forza Italia, pur attestata sulla linea condivisa, voto governo di centrodestra, non è un tabù. Al termine del vertice Salvini e Meloni parlano al telefono con Silvio Berlusconi, oggi ricoverato per alcuni esami medici. Sto bene, fa sapere il presidente di Forza Italia, mi preoccupo per il rischio che la crisi politica che si è aperta aggravi la paralisi decisionale del Paese in un momento così difficile. Qualunque sia la soluzione, spiega, è necessario attuarla più presto, senza perdere neppure un giorno nei tratticismi della politica di Palazzo. Questo è quello che è successo oggi. Adesso quello che si sta facendo dal pomeriggio è cercare di capire chi e quanti possono essere quei costruttori, responsabili, volonterosi, transfughi, volta gabbana, chiamateli come volete, chi sono che dovrebbero passare dalla parte della maggioranza per garantirle appunto i voti, per far proseguire l'esperienza del governo Conte. È ovvio che la battaglia è quella doppia per trovarli e per evitare che passino. Che novità ci sono e anche, visto che hai dietro di te Palazzo Chigi, dalla parte del governo e di chi lo guida? Paolo Celata. Allora, innanzitutto qui si terrà tra poco il Consiglio dei Ministri che deve far passare il provvedimento sullo scostamento di bilancio, quindi consentire poi i ristori. Ma tu dicevi sulle manovre ultime. Allora, innanzitutto non è difficile riuscire ad avere i nomi precisi, però qualcuno si sbilancia sui numeri. Allora, uno per capirci, al Senato sono 18 i senatori di Italia Viva, del partito di Renzi, che garantisce una soglia di una certa sicurezza alla maggioranza uscente, diciamo così. 18. Di questi c'è stato detto che 5, forse 6, quindi quasi un terzo del gruppo, e questo sarebbe veramente un contingente davvero importante. Qualunque cosa tu stia dicendo, ci è stato detto da chi? No, fonti neutre, fonti di Palazzo Chigi. No, perché è ovvio che se sono fonti di Palazzo Chigi possono essere anche 17. Sì, diciamo che allora arriva da fonti di Palazzo Chigi, però evidentemente ci contano, almeno ci sperano che sia questo il numero dei senatori. Dopodiché, se saranno quelli, è un numero importante e che inizia a essere una base importante, perché gli altri quali sono? Un po' come si è già sentito nel servizio di apertura, senatori che stanno adesso nel gruppo misto. Ecco, oltre a quelli del Maie, che avete già citato, lì ci stanno diversi ex del Movimento 5 Stelle. Alcuni sono già passati con l'EU, penso alla senatrice Nugnes ed altri, ma altri hanno votato alcune volte a dire il vero con la maggioranza, ma non in modo sistematico. Esattamente, esattamente, il più famoso, ma anche Michele Giarrusso, altro personaggio importante che ha avuto un ruolo al secondo mandato. Ecco, anche su questi personaggi evidentemente ci sono dei contatti, ci sono degli avvicinamenti. Loro non confermano, ancora non hanno detto se passano con la maggioranza, però, insomma, iniziano a essere messi nel gruppo. Abbiamo sentito in diretta quello che è considerato il grande regista, lui, insomma, lo avete sentito, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ma anche marito di Sandra Leonardo. Ora, questo non vuol dire, l'abbiamo precisato più volte. Ma insomma, lì ci sarebbe un tentativo anche con l'esponente, la moglie con il centrodestra, ma adesso al misto ed è uscita dal centrodestra. E allora da lì arrivava l'informazione pubblicata anche dai giornali, in questo caso non diciamo niente, non sveliamo niente di segreto, che il gruppo era intorno ai 10-12 senatori. Quindi ancora siamo a un numero che non è quello di Italia Viva, quei 18, quella soglia che dicevamo. E quindi queste ore sono importantissime, direttore. Però sono importantissime, ci è stato, e questo ragionavamo invece con colleghi, in un senso o in un altro. Nel senso che c'è anche il lavoro da parte del centrodestra, e questo l'abbiamo raccontato durante la lunga diretta anche di questo pomeriggio. E cioè, come ha raccontato l'ex ministro Centinaio, anche da quella parte, cioè la Lega, starebbe cercando di convincere senatori che sono del Movimento 5 Stelle, che hanno sensibilità simili o vicine, diciamo così, a quelle del centrodestra, in particolare della Lega, ad avvicinarsi e entrare organicamente, spostarsi. Questo punto evidentemente è il tentativo addirittura di fare un ribaltone di maggioranza, ma insomma difficilissimo. Ma c'è anche questo levorio e quindi questo fine settimana lungo, insomma, che ci aspetta, questo è quello che sta succedendo da una parte e dall'altra. Perfetto. Giochi apertissimi, a quanto ci risulta. Grazie Paolo Celata. Ora, cari telespettatori, ve lo dico, lo abbiamo detto in queste forsennate 48 ore concitate della crisi. Ognuno la spara. Questo serve evidentemente a galvanizzare i propri e a demoralizzare quelli che stanno dall'altra parte. Nessuno sa i numeri veri, li vedremo soltanto, probabilmente lunedì notte, nella conta al Senato. Prima di allora sentiremo mille valutazioni, mille retroscena, mille certezze che però devono essere convalidate nel momento in cui ciascun senatore dovrà dire sì o no alla fiducia al governo e a Conte. Anche perché ci sono altri numeri che incombono ancora una volta, anche oggi, come tutti i giorni, quelli della pandemia. Se si processano meno tamponi e i nuovi positivi aumentano, non è un buon segnale. Ed è successo oggi. Circa 15.000 tamponi in meno rispetto a ieri. I contagi sono aumentati di quasi 1.500. La prima conseguenza è che il tasso di positività è leggermente aumentato, pur mantenendosi più basso di qualche giorno fa. Oggi ci sono anche più vittime rispetto alle 24 ore precedenti. Un numero sempre molto alto, 522. Ieri erano 507. L'elemento positivo è che oggi ci sono parecchi ricoveri in meno, 400 in meno. Ma soprattutto che dopo giorni di crescita le terapie intensive con un meno, 22 sono tornate a scendere. Ora sono proprio sulla soglia di allerta fissata dagli esperti al 30%. Ieri erano al 31. La pressione sulle strutture ospedaliere continua a preoccupare molto. In Lombardia si sta predisponendo un aumento in tempi rapidi dei posti letto in terapia intensiva per chi ha il Covid. D'altra parte, proprio la Lombardia da due giorni è tornata ad essere la regione con più casi, oggi più di 2.500. Molto alti i numeri anche del Veneto, della Sicilia e del Lazio, dove l'assessore alla sanità annuncia che dopo settimane l'RT ha superato l'1% e dunque ci si avvia verso la zona arancione. Lazio dove oggi si è cominciato a vaccinare gli over 80. Per le regioni che saranno in difficoltà a gestire la campagna vaccinale, le prenotazioni, le registrazioni o certificazioni, ci sarà una piattaforma informativa nazionale. Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario, Domenico Arcuri, che oggi in conferenza stampa ha detto in Italia è stato vaccinato l'1,5% della popolazione, in Germania l'1%, in Francia lo 0,37%. Oggi gli immunizzati sfiorano il milione di persone. Siamo pronti a potenziare il sistema di distribuzione e somministrazione, dice Arcuri. Non dobbiamo perdere nemmeno un'ora, ma servono più dosi. E poi ci sono le misure che stanno per arrivare e che non saranno certo più leggere di quelle che abbiamo vissuto fino a oggi e vivremo fino a domani. Nell'incontro governo regioni stamattina il ministro della salute Roberto Speranza ha usato toni allarmati. I dati europei sono in significativo peggioramento, ha detto. Con il monitoraggio di domani ci aspettiamo un R con T che nella media nazionale potrebbe sfiorare l'1,10%. Bisogna anticipare le restrizioni per evitare una nuova forte ondata. È il preludio della stretta del prossimo DPCM che sarà varato domani e entrerà in vigore sabato. Il testo introdurrà criteri per abbassare le soglie di inserimento delle regioni nelle diverse fasce di appartenenza. Con l'R con T a 1 si va in arancione, con 1,25 in zona rossa. Si pensa anche a una quarta area bianca con tutto aperto e libertà di spostamento, ma nessun territorio finora ha una tale bassa incidenza di contagio. A comporre la nuova mappa saranno i dati del monitoraggio settimanale che saranno resi noti domani dalla cabina di regia. Mezza Italia può finire così nella fascia di rischio medio. Maggiori restrizioni e spostamenti liberi solo all'interno del proprio comune. Tre regioni, Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia, potrebbero diventare rosse. Con la Sicilia, che lo ha chiesto già stasera al governo, solo Toscana, Sardegna e Molise rimarrebbero in zona gialla. Il nuovo DPCM dovrebbe contenere il divieto d'asporto per i bar, limitatamente a bevande e alcolici, a partire dalle 18 per evitare assembramenti da aperitivo. Restano le chiusure per ristoranti la sera, palestre, piscine, cinema. Uno spiraglio per la cultura, l'ipotesi di una riapertura dei musei, quelli con le mostre permanenti, nelle regioni in fascia gialla nei giorni feriali. Fino al 15 febbraio poi resta in vigore il decreto approvato ieri sera, che conferma lo stato d'emergenza col coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e il divieto di spostamento tra regioni o province, salvo per esigenze lavorative, necessità o motivi di salute. Vediamo da Alessandra Sardoni, interrompiamo ma poi riprenderemo il filo del ragionamento sulla pandemia, le misure e parleremo delle scuole. Lunedì riapre la Lombardia dopo la decisione del TAR che ha dato, come si sa, ragione all'organizzazione dei genitori contro la regione. Andiamo a vedere da Alessandra Sardoni se ci sono novità su quello che è il passaggio fondamentale a questo punto della crisi politica. Allora sì, velocissimamente che il motivo del protrarsi della conferenza di Capigruppo è che a questo punto i 5 Stelle invece si sarebbero impuntati per avere le comunicazioni del Presidente e il voto di fiducia non lunedì sera con la notturna di cui abbiamo parlato, ma martedì mattina comunque. Quindi a leggerla come dicevi tu durante lo speciale, se forse Italia ci tiene ad avere una notte in meno, evidentemente se vogliono un otto in più significa che qualche gioco è ancora da fare. E aggiungo sempre velocissimamente che ho incontrato poco fa la senatrice Donatella Conzatti di Italia Viva che è uno dei senatori dati per partecipanti al nuovo gruppo dei costruttori che ha smentito categoricamente, lo ha fatto anche in un'intervista a Radio Radicale, ma insomma lo ha detto anche a me direttamente, che questo non sarà che c'è stata una riunione di gruppo, che il gruppo è compatto e quindi se la sentiva di smentire anche per i suoi colleghi che sono tuttavia critici nei confronti di Renzi. La verità è che è il gioco che dicevo prima, da una parte si dice saranno uno o due al massimo, si fanno anche i nomi, non è corretto farli, e dall'altra parte si dice sono cinque o sei. La verità è che molti sono degli ex del PD e quindi il gioco è proprio direttamente tra Partito Democratico e Renziani ed è un gioco di nervi che si concluderà soltanto o lunedì sera o lunedì notte o martedì, ce lo dirai tu quando finirà, se finirà in tempo per il telegiornale la conferenza dei capi gruppo. Grazie Alessandria. Andiamo allora alle scuole. Il ritorno in classe per i ragazzi delle superiori della Lombardia, così come in altre regioni d'Italia, resta sospeso fino a domani quando il governo con un nuovo DPCM dovrebbe annunciare nuove zone a massima diffusione. La Lombardia da Arancione è a rischio massimo il giorno dopo la decisione del Tar Lombardo che ha accolto il ricorso del comitato a scuola contro l'ordinanza regionale che l'8 gennaio aveva risposto la didattica a distanza al 100% per tutte le scuole superiori fino al 25 gennaio. In prefettura è stata convocata una nuova riunione alla quale hanno partecipato anche il presidente della regione Attilio Fontana e la neoassessora al welfare Letizia Moratti. Al centro la riorganizzazione graduale della scuola e il trasporto pubblico locale, un tema non risolvibile in poche ore. Per questo motivo il prefetto di Milano e la direttrice dell'ufficio scolastico regionale hanno scritto al Tar spiegando che per attuare la nuova ordinanza a partire dalla data provvisoria di lunedì 18 gennaio sono necessari tempi minimi insopprimibili. La regione ha annunciato in ricorso alla decisione del Tar che aveva bollato come irragionevole la misura presa dal governatore. Sono ore di attesa in altre regioni, Piemonte, Lazio, Liguria, Molise e Puglia che nel pomeriggio ha annunciato per sabato una nuova ordinanza regionale sulle lezioni scolastiche per la didattica integrata digitale e che scade proprio il 16 gennaio. In Sicilia sulla DAD il Tar ha stabilito che è legittima pur che sia a carattere temporaneo ed è altrettanto indispensabile l'obbligatorietà dell'apertura delle scuole. Questa mattina intanto la ministra Lucia Azzolina ha ripetuto la necessità di nuovi ristori formativi per gli studenti. Lavoreremo ancora di più per dare il loro supporto psicologico. L'emergenza ha aumentato i divari sociali e colpito le fasce più deboli. Ma c'è uno sviluppo che è importante dell'inchiesta delicatissima della Procura di Bergamo sull'inizio della pandemia e su quello che forse poteva essere evitato. Che misure di prevenzione sono state prese dalle autorità sanitarie al Ministero e alla Regione Lombardia dopo che il 5 gennaio l'OMS aveva dichiarato l'allerta mondiale per il coronavirus è il nuovo punto su cui adesso si concentrano i magistrati di Bergamo i pubblici ministeri che indagano anche sul piano pandemico. Un ritardo se c'è stato avrebbe giocato un ruolo decisivo nella diffusione della pandemia perché la questione ora non è più soltanto se il piano pandemico fosse aggiornato oppure un copia e incolla di un vecchio documento del 2006. Secondo le ipotesi della Procura dopo l'alert dell'Organizzazione Mondiale della Sanità anche in base al piano pandemico che era a disposizione un anno fa sarebbe dovuta scattare la fase 3.1 prevede un rafforzamento delle misure di prevenzione. C'è stato davvero? In Procura si fa un esempio gli antivirali erano conservati in uno stato di degrado in un deposito di Roma. Stamattina i magistrati hanno disposto una serie di perquisizioni al Ministero della Salute all'assessorato, al welfare della Regione Lombardia alle aziende sanitarie locali di Seriate, di Milano e agli uffici dell'ex direttore della Prevenzione Nazionale. Il metodo della Procura è a cascata. Si vuole capire cosa abbiano fatto a tutti i livelli le autorità sanitarie per la prevenzione del virus quali piani pandemici ci fossero e come siano stati attuati anche a livello locale e che tipo di misure siano state prese dopo i primi casi di coronavirus. Si prende in considerazione anche un altro reato l'omissione in atti d'ufficio. La Procura sul piano pandemico ha già sentito come testimoni il direttore aggiunto dell'OMS Ragneri Guerra e il capo dell'Ufficio Studi di Venezia sempre dell'OMS Francesco Zambon i due hanno dato dichiarazioni discordanti sulla presunta post-datazione del piano dal 2006 al 2017. Per la prossima settimana i magistrati hanno già convocato altri 4 o 5 tecnici del Ministero. Al volo Alessandra Sardoni si sa che si va a martedì? Sì si va a martedì l'hanno spuntata diciamo i 5 stelle da questo punto di vista ed è stato anche il Presidente Conte a dare la sua disponibilità per martedì a questo punto sarà martedì alle 9.30 adesso però ci sarà un passaggio in aula dove non sarà messa i voti ma ci sarà modo per le varie forze politiche di esprimere anche il loro disappunto per chi era contrario invece spiegare perché è stato necessario grazie Alessandra dopo di noi a 8.30 gli ospiti di Ligruber sono Francesco Boccia, Mariolina Saltanino Franco Bechis, Beppe Severgnini poi giovedì c'è Piazza Pulite con Corrado Formigli e c'è un panel d'eccezione Sabino Cassese, Carlo Cottarelli Tito Boeri, Andrea Crisanti Ignazio Marino con Mario Calabresi e Antonio Padellaro ci fermiamo mi do la conferma ufficiale che è stata data in aula al Senato Conte terrà le comunicazioni nell'aula di Palazzo Madama martedì alle 9.30 sarà quella una lunga giornata quella decisiva della crisi quindi martedì martedì prossimo e vediamo come sono andate le borse oggi Milano ha chiuso in negativo con lo 0, come vedete meno 0,47% e in questo momento a Wall Street gli indici sono invece in positivo pure frazionale Dow Jones più 0,32 Nasdaq più 0,30 è tutto Gruber Formigli ci vediamo domani sera buonasera Grazie a tutti 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 Grazie a tutti